CDR probabilmente E poi andremo con Classici oggetti Uno shadow flame facile facile No la zona troppo difensiva Cioè la zona è forte Vediamo però quanto siamo avanti Se siamo avanti Andiamo a speltif È giusto? No Per quello che compriamo Oltre al fatto ora in ADC il primo oggetto È Io Navori perché è più forte Nel game No Cioè primo oggetto Perché dovresti buildarlo primo oggetto Infini Non ha assolutamente Nel consenso L'oggetto che costa di più per avere cosa 70 di AD 20% che tira al strike Basta Sbuilda secondo Soltanto su Yone e Yasuo In caso Però Non so neanche se lo vorrei Su Yone e Yasuo Allora beh ovviamente si parla di Infinity E non del Navori Però sai Se è senza attack speed Magari se c'hai delle rune Più le scarpe Ci può stare Però comunque Non lo so Come primo oggetto Cioè sai Il cringebo Ti dà un sacco di cose Tra cui le stiele Eccetera Allia sex Ma mi pare comunque una merda Perché c'è Hai comunque pochissime stats È quello il problema Cioè i mitici ti danno troppe stats I mitici da di carry Sono super forti Non è una cosa da poco Riuscito a far sittare ragazzi Tuk Niente Samira che scappa da me Scappa dalla cuore No non mi curare No no Sono tipo gli anti-vax Ah se att Aia Ah se attacchi i minion Possiamo fare il livello 2 E attaccare Ti do una mano Ma fino a un certo punto Oh What Ah scusate Ok 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 Ah! Scimmia Molto bene Aveva già usato lì a Lez? Ok, sì Grande doppiatore con i Dracan Comunque, allora, vediamo un attimo Niente max, la W La cuva ha 7 a 250 Eh no, W ragazzi Veramente strong da W La esti cazzi, tanto scudare gli alleati A che serve scudare gli alleati, tanto Sono io il carry Sì? Oh Mettato davvero Che tragedia ragazzi Sto di carry Tira la prima di subire tutto il danno però Niente, noi staremo qua Con questa impressione Ah, eh vabbè Ha flashato Non potevo parlartelo in nessun modo Quello Eh Ah ma ce l'aveva lì al primo allora Eh mi ha fregato Io ero convinto non ce l'avesse Quando è morto all'inizio Non l'avevo usato allora Ce l'aveva ancora L'aveva tenuto per le occasioni migliori Che cazzo Cioè ok sto giocando da solo Lening phase però Oh vabbò Uno per uno dai È uno shutdown No non le avevo usate Io ero convinto di essere usate Perché cazzo Cioè ci ho messo anche un po' Killarlo Ce l'aveva tempo di usare l'ial Quindi Sono un po' rimasto sinceramente 340 Ok dai Va bene Altre summoner al discount A quanto pare Ah c'è grappa fresca lì Occhio alla grappa Omge so lucky Scrive Silas La grappa ragazzi Non l'attacchiamo per rispetto Oh C'è un fight in corso Arrivo Combattete la grappa Ci arrivo Dove sempre si infilano le cose Di oltre Ok Dov'è la grappa Dov'è la grappa Niente è scappato di là Ah E invece no Eccoci Ok Grappa Distillata E servita Tanto il mio di cariche muore Muore esistendo Sì Allora Qua è guardato Avrebbe tolta Ragazzi Inizio a pensare Che il tizio di prima Fosse meglio Sì ma Dai Volibert Quanto cazzo C'è messo A fare sto saltino Di merda Ok Buono Lo era almeno Che fatica Potevo salvarmi Se lei continuava a scappare Perché le faccio le addosso Lei è venuta indietro Così da non poter Da non poter fare lei Ma mi pensi di prendere Dov'è la grappa Dov'è la grappona Io qua non so farlo Purtroppo E la ward Posso provarci Oh aspetta No la grappa è qua Guarda Tuck Grazie Una curetta Ma io ce la sto Pieno di soldi ragazzi Oh la grappa La grappa Grappa presa Grappa presa Ok Mettiamo i compagni qua Becca Ci abbiamo Tutti i night harvester Grazie Jacopo 2905 Per i 6 mesi Bentornato Chiarissimo Oddio Santo La grappa come messa 022 Insomma Insomma Ci va anche a killare Solo il Jax Sì Oh arrivo Arrivo Cosa fa quel pazzo Ma è proprio pazzo Pazzissimo Ci se Niente Va un po' più Oh La mossa Bomba No grappa no Grappa no Grappa Ecco qua Omg La grappa non effetto sugli astemi Non che io sia astemio però You crazy Sup diff Funk Eeeh Oh L'onda energetica Oh ma che palle questi Ma quanti cazzo di Dio bono C'han tutti il flash Ragazzi Vabbè Siamo stati un po' sfortunati Messa in gabbia proprio Mamma mia Il mauri è arrivato Ma come 5-0-G Ah ecco Sarà meglio Dove si dramma la cascata Sul pezzo Adesso il fiume Ah qui dici Tipo questo qua Oh double Dai ma come fa a fare Ma con quella build Ma che cazzo Ok ok Proverò Non me ne sono mai interessato Per quello non lo sapevo E' vero E' una cagata Grazie di avermelo detto E' facilissimo Ora lo sapete anche voi ragazzi Lo può fare per uscire in un iron What? Dai ma per un pixel Non l'ho preso Ah 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 Oh Hai rotto il cazzo Boom Sparisce Oh la grappa? Oh Dio è pizza Ma c'ha già due getti Ma c'ha dieci kill Questo Il body carry a 7 morte Ma raga ma questo c'ha già 6k gold Ma what the fuck Vabbè Dove è andato a quello Io non so più che dire ragazzi Io però 15 stack dark harvest Al minuto 13 Sono tantissime Sono tantissime C'è un sacco di danni Se sei forte sali Scriveglione Così Ho appena scoperto Il secondo maestoso fieri Che La grappa ha capito La grappa ha capito Dopo essere morto Uno v1 Si è fatto due domande Ho detto Un raccanna mi ha ucciso Un raccanna P mi ha ucciso Oh ma loro Non stai capito te La grappa torna Bonk Ha Ma il nostro Il nostro Fa ridere che il nostro 10 muore ma Non si sa bene come Lui muore Tu premi tab E mor Ma perché Jspoi è top Ah madonna Oh quanto incazzati sono Eh vabbè Oh Facile Siamo sopravvissuti Ho usato di nuovo Tutte le summoner Che avevano ADC Guarda questo Ah sì vabbè Cosa parlo a fare A sto tizio qua Siamo stati un vero fan Doveva capirlo A nome account Ma oltre a quello Doveva capirlo già Nel momento in cui Nel momento della sua Della double Che l'inizio game Qua rubo dell'exp Grazie Forca Un po' di gente Vedi carry intanto Sta lì Ho preso Un po' di male L'ha fatto Oh Facile dodge Porca Tra l'hanno Ma come fa a sapere Dove sono Questo Vabbè Ma di che rinta Ha andato Back Giusto È scappato Del suo Responsabilità Si non è molto Iron Staggerial Ragazzi Cioè non mi Sembra almeno È che il nostro E ci fa così Schifo Che sai Si è fidato Così tanto Però Cioè sicuramente Bravo Non è Non è un cesso Però no Non è Chissà cosa Ecco E non pensate Io vado un po' Cioè tanto Samira muore Sia che ci sia Sia che non ci sia Cioè cosa vado a fare Bottli Sto un po' Con i miei alleati Almeno faccio robe Voglio vedere Arriva con un quarto Di vita Guarda chi c'è qui Ho ho Mamma Quanti cazzo Di flash Ci hanno Questi Ponk No 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 Vieni qua Toccami Ok Bot Tranquilla Sì sì Questo Doge Apure Non è Iron Non è Chissà cosa Ma non è Iron Ha addirittura Sistepato Riesco Riesco a killare Jax Livello 11 Mmm Ah ok A posto Ci riesco Ci riesco Pek 22 stacca Al minuto 19 Ragazzi Sono tantissime Sono veramente Tante Devo dire Oh c'hanno tutti sta roba che sicuro Ora vado di Morello Che ora è forte il Morello Ora è un oggetto C'è anche prima era forte perché era cheap E tirava tante cose Ora è forte punto Tantanto Samira Samira alienata dal game Mamma Samira ragazzi La roba Ci penso io qua Che pizze Che ho tirato Porca troia Oh 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 Guarda chi c'è C'è la grappa Ma Però La grappa La grappa lo sa che sono La grappa lo sa Chissà se è perché lo stream è aperto Oppure il presentimento Ah che poi quello lì è il pre-made Oltretutto Che va scritto in italiano Ione Potrebbe avere la leva aperta Io appena riesco a muovermi No Miche ci sono entrato un idiota Perché è così difficile Siamo Silas Jackson Nel frattempo Io non Vabbè Infatti non fa danno Tanca ma Non fa il minimo danno E non hitta neanche i grab Mamma mia che schifezza Sta gente ragazzi Però va bene Va bene ci sta Cioè siamo in iron Però io adesso Dici Fai rimasto in iron Ok ma Perché Cioè perché Ma in iron Non te lo consigli A nostro oggetto Io non penso che spendi Silas A per i consigliati Sì Jackshaw Credo Che raga Che botta che ho tirato Altro flash Numero 63 Della giornata Ma Jace è morto What Se comunque sto tizio Mai nella vita È iron Ma mai nella vita Ok Ci sta C'hanno lo smarfino Anche loro Va bene Va bene Si smarf più Tra me e Zeal Basta Stanto noi due Comunque la passiera a Kanskala Più Guardate che scudino Mi ha tirato fuori Quanto 95% Non male Oh Oh Vuol dire che tirò delle pizze Non da poco Ottimo 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 Mi piace Rakan a P Tira delle gran botte Uh L'ho salvato di scudino Ragazzo Ottimo Eh sì Un certo support gap Però deve andare back Adesso che c'ho il morello Famoso morello Su Rakan Rabadonzio Rabadonzio Minchia Però c'hanno tanta Magic Resist Iniziano ad avere Un bel po' di Magic Resist Samira cosa sta facendo Farm Quindi le stazze del morello Adesso sono 90 di ap 200 di vita 40% di svuot Da prescindere 10 di armor Magic pen Giusto Dovrebbe essere una roba del genere Comunque sto tizio qua Mira troppo bene Samira non ci arriva Perché una di carry Con Le braccia corte E possiamo avere D'aiuto Da parte Dei nostri teammates Posso muovermi Anch'io Sai che farò zonia A sto punto Vuoi libertà anche Che non tanca Beh c'ha l'Hard Steel Ok Ora ho capito Ora ho capito Perché è inutile Quest'altro C'ha il Jaxho Però è Silas Purtroppo E non Volibear Bene Immaginate Perdere un game così Ragazzi Jace è morto Per essere esistito Purtroppo Jace è morto Per essere esistito Qui esiste Quindi muore Ah è Better support Wins Immagino Jax ha solo Splittato Due undici E vincerà Ha flashato Di nuovo Oh ciao Alleati Vero che ci siete Anche voi Come va Bene Poi liberare Intanto è diventato Il top laner E noi non lo sapevamo A quanto pare Vabbè Devo difendere io Eh sia Perfetto Perfetto È proprio quello Che volevo vedere Quelli del mio team Stanno un po' intando Beh Onesto I look around These forests And I See All I has been slain Un po' Stanno un po' In tandem I miei alleati Sì Jax è parcheggiato In top Eh ho capito Ma il fatto che C'è probabilmente Quello che deve fare Jax Bellissimo Ok In qualche modo Sta merdata Ha funzionato Nesco a muovermi Ma come fa a morire Di continuo Questo Proprio per Bitubb muore Da qualche parte Lui è morto Sai solo che Non sai cosa ha fatto Non sai dove Ma sai solo che è morto È solo che Quel tizio è morto Ce la fate in 50 Killarlo Sì Dai Ovviamente qualcuno Deve morirci 40.000 oggetti Ma ci muore Va bene Tu dici Jax è parcheggiato In top Sì E fa schifo Sì Però è il fatto che Il suo campione Gli permette comunque Essere utile Invece Abbiamo Sylas con 89 minion E il Jax E quella Building Guardabile 28 stack Cioè guardate Comunque lì è utile Cioè farà schifo Sì però sta lì E splitta Sì il game Era da FF20 Allora sono alla lettera R Quindi Fatti i tuoi conti Se l'ho giocata Ma Jack sta facendo bene Quello il fatto Cioè voi potete fare il Baron qua Ah questa è top lane Vabbè Non abbiamo danni Guardate quanto ci mettiamo a fare Il suo cazzo di Baron Però ok Oh Ok Immaginavo l'avrebbe fatto Oh Ma quanti ne avete Ma ragazzi ma C'è un modo per Tipo riciclare il flash E averlo più spesso No perché Non me lo spiego Se no Ce l'ha ogni 30 secondi Questo Pazzito Pazzito questo Vabbè ragazzi Ma porca troia Io che ho voluto farle Per salvarlo Samira è back Vabbè dai Non si può vincere sto game Fanno troppo 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 Cagare i miei alleati Troppo Questo è top lane A uccidere Jax Per la quindicesima volta Meno male che ho ucciso Jax Per la quindicesima volta Però meno male Cazzo Samira Non so più cosa fare ragazzi Non so più cosa fare ragazzi Mi toccare di giocare a Rakan Molto probabilmente Beh Shottato Ah Samira c'ha il collector Ok se capiscono tante cose Contro le zio è che c'ha il frozen art 90 di armor E' l'oggetto a super più Rabadon Ok però Devo arrivare a avere i soldi Che se lo vendo adesso Non compro un cazzo Ma neanche per 60 di api Lo vendo Cioè a Rabadon Sono 3600 gold Ci vuole un po' Anche se io penso a fare più danno Con la magic pen Che con il Rabadon Perché comunque Il target principale C'ha magic resist Grazie Samira Molto gentile Per il passaggio Grazie mille Tutto molto bello Ma c'aveva un super minion qua Non pusheremo mai Ma sai La spendi quello Oh Ok Riusciamo a chiudere? Riusciamo a chiudere? Uff Yeah Ok 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 C'abbiamo lo scudo Siccome riusciamo anche a chiudere Ok 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 Forse hit No 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 Che bordello sta partita Oh ma what Ma la W perché non l'ha fatto saltare Ragazzi Era appiccicato a me Non l'ha fatto saltare No dai non posso chiuderla Era fuori Potrebbe essere fuori Cioè se lui mi stunna non parte comunque Ma non esiste che non parte l'animazione Se sono stunnato Cioè era già partita ma va a finire Vabbè Ah qua sono più in arrestato Comunque a far ridere che di te Avete detto 5 motivi diversi Quindi a posto Bravissimo Bravissimo Esatto Seguiteli eh Seguiteli per bene Oddio Sam Sam Mi era muore col Drake Up Davide Pari C'era di nuovo il flash Ce l'aveva di nuovo Ok Di nuovo il flash Che parto sto game Che parto sto C'è una da sedia di gambe Grazie mille Grazie Davide per i beats Molto gentile Sto sudando sette camicie Se vendo sto oggetto Non posso neanche comprare un cazzo adesso Comunque c'è 2500 gold Non mi basta Ah eccoli Grazie sedia Grazie mille Siamo 40 minuti in questo game Sedia Grazie mille del ride Sto impazzendo Grazie ta Grazie ta Sky per magic pen Così con i miei 18 di magic pen In più Grazie ragazzi Grazie grazie Sono affaticatissimo Però grazie mille a tutti Fanculo Pregnale l'isir Cioè se sto aspettando I soldi del rabadon qua Divento vecchio La zona è utile Però lì sono stato Insta shottato La zona è utile Perché magari mi servono Quei due secondi Per poi tirare la W No? Dici sono senza spell Mi stanno attaccando Zonia Prendo il cooldown Per la W E uso la W Capito? Mamma mia Mamma mia Eh Ok 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 Bobby Ok Mamma mia Madonna ragazzi Ci ha armati 4 Ci ha armati 4 Molto bene 16-8-24 40 kill participation Sì no signore 40 kill participation Sì no signore Sì no signore They have tried really hard And now they did it Guarda Io non so che Jace è l'unico Decent del game Gli altri Erano Concime Per le piante Bene Cosa abbiamo imparato A questa partita Che ho fatto più danni Di tutto il mio team Ah Bene Voli report Perchè? S'ha fatto voli All they have to do Is protect me And we win Onga bunga Baron time La partita anche se per te Sarà stato un parto Lo è stato È stato un parto Proprio Cosa posso Vrai